Grazie a tutti Ok, un posto un po' tetro Giusto un po' eh Ho paura che sono tutti i livelli e si diventano sempre più difficili Beh si, diventano sempre più difficili ma ho paura che diventano molto più difficili Va bene Andiamo qua Primo livello No si muore? Si come si aspetta A meno quando ci sono più le seghe circolari Seghe circolari Oh Dio Che brutta morte Ma dai, me l'ho spostato giusto un po' più in là Il volume mi pare che è troppo alto Forse non si sente la voce Questo lo livello è un po' strano Aia Perché va fuori? Credo che nei prossimi episodi metto di nuovo quella del pc fisso Con questa non vado molto bene Oddio ma è impossibile da fare Diciamo che deve fare così Così Aia Eh, è sbagliato Beh se ci penso non è molto Non è tanto impossibile No Perché se andavo oltre Ma cadevo Non lo sapevo Non lo sapevo Ho giocato un colpo scorretto Devo fare almeno Tre livelli qua Sennò faccio un episodio Un livello ogni episodio Ah già Come ha fatto a passare attraverso il muretto Va bene, va bene Andiamo a presso Oh Numero Perché No, forse è che per sbaglio Ho premuto shift Do Va bene Sì, dopo 4 minuti Il primo livello Ecco qua, credo che devo andare qui E poi? No, ho capito Non proprio Non sapevo che si manteneva sul tool E ho sbagliato, va bene A questo punto preferivo le seghe circolate Ma che sono? Quelle sono siringhe, oddio Ah, sono siringhe Siringhe letali Perché sbagliò? Allora, spazio Non è proprio questo Spazio Oh god Oh god E quindi posso fare anche in quel modo Non capite cosa sono quelle cose bianche però Va bene Possibile che mi devo stare tre quarti d'ora ogni livello Devo saltare quando sennò più in basso, quasi vicino al crepare Devo saltare Non così No Se vado dalla non c'è, non ci sono tanti problemi Allora, no, non così Non proviamo così No Soluzione azzardata Ah, ecco Sembrava strana, sembrava troppo facile Poco prima Sti livelli stanno diventando impossibili poco a poco Quindi Mi serve il vostro supporto e i vostri mi piace Ve lo giuro, non vi sto scroccando i mi piace Lo giuro che quando adesso deve morire il maialino ciccio Mi maialino il quadratino ciccio Mi maialino il quadratino ciccio ecco sono rimasto di stucco non è un barbatrucco perchè non va più manco qua mamma ho tutte le mani sudate anche se fa un freddo boia qui è fuoristabile nel diluvio universale mamma come piove la pioggia anche che non riesce a farmi giocare bene il secondo video è venuto il secondo episodio è venuto così bene il terzo e il quarto mamma mia allora uno eh oh cazzo devo cercare di giocare seriamente allora uno un po' un po' c'era quasi questo gioco è proprio bastardo c'è pensavo che all'inizio era più semplice invece no non è semplice non so da si che sono io che non so giocare ma non penso non lo vedo io è un gioco molto facile ho sentito molto parlare di questo gioco anche se va sui forum infatti era votato per come fare il gameplay di questo gioco comunque è un gioco è un gioco è un gioco difficile e chi lo fa comunque imprega ma sto facendo io e quindi diciamo uno oh numero oh numero L'Otto dovrà buttarmi a quella di sotto difficile tanto è difficile mi proviamo a buttarci su questo sto gara porca trota boia ciubbia la maremma maiala per poco per poco maledetta bambana perchè si va a metterla non poteva mettersi qua qua vicino no lei no la deve mettere là fuori acquista qua stai sce no prendiamo qui che sono cazzo sono passato un bel po' di tempo e ho fatto solo due livelli ah no che fai ne ho fatto uno adesso non salta manco ne ho fatto uno in realtà questo non l'ho finito quindi non è un livello può considerarsi livello finito perchè non salta bene ok ok mi sono messo in posizione adesso devo vincere adesso devo vincere oh cazzo oh cazzo mi hai detto telefono che mi hai stand by dimmi telefono se tu mi hai stand by io come lo vedo l'orario me lo dici? un tico telefono grande proprio intelligente si sto proprio dall'iranno senza andare a parlare preda solo col telefono non sapevo che c'era qualcosa così vicino ma dai figurati qua non so come fanno delle siringhe a scendere in quel modo passano da tutte le parti sembra la piede drogata qua come si è drogato quello che l'ha fatto a sto livello? troppe siringhe se per questo non con le seghe circolari avevano chiusa quanto senso però non ho più sopportato effettivamente no altrimenti non si deve fare in quel modo che con un caspallo c'è ma che diamine la prima parte ormai 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 ha imparato si blocca che succede mio dio oh my god e senti bam bam noi per oggi ti stella anche faccio l'ultimo tentativo e poi chiudo l'episodio l'ultimo è l'ultimo no l'ultimo ancora un altro vabbè per questo schifoso squallito episodio vedo che è tutto quindi ci vediamo al prossimo episodio in conclusione faccio un bel suicidio no questo non mi piace voglio farne un altro voglio farne un altro no un altro voglio suicidermi in un modo più decento uno splatto ma giù ecco però così e ciao a tutti sempre da capitan carciò